The Show Dopo anni di scherzi ci siamo chiesti Cosa sarebbe successo se a fare le nostre Candid fossero state due ragazze? Loro sono le Hattics, ovvero noi nell'universo alternativo in cui siamo nati donne E oggi ci ripropongono un video vecchissimo nostro ma super apprezzato In partire ordini con una videocamera Rigurgitalo! Sulla mano! Ma no! Ma si vai vai! E' uno spot contro l'obesità! Vai! L'ho fatto davvero! Allora vai continua a mangiare, continua a mangiare Mangia, mangia un po' più felice, mangia felicemente Di, le patatine sono buonissime Le patatine sono buonissime Ok bravissimo, ok, ok, ok Continua a mangiare, mangia un'altra Bravo e adesso rigurgitela come lo struzzo dell'Amazzonia Sulla mano, sulla mano Vai, rigurgitela, bravissimo Come lo struzzo dell'Amazzonia Vai, vai, vai Sei uno struzzo dell'Amazzonia Bravo! Bravissimo! Ok, bravissimo, ok Grazie Era uno spot contro l'obesità, appunto Grazie Bello! Grazie Vai, muovi la gamba E' per un spot, per un spot di tv Vai, vai, muovi la gamba Bellissimo Un po' tipo così, a mio fine Sì, sì, sì Ok E poi direi, le mie gambe sono dolcissime Le mie gambe sono dolcissime Facendo gesto Le mie gambe sono dolcissime Bellissimo, grazie Era un spot contro la civiltà Veramente? Sì, grazie Tu, 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 tu Ehi, è uno spot, uno spot Mettiti dritta e mezzo Brava, da sola Spostati un po', tu Esatto Girati dall'altra parte Bravissima Ok, ora fai una sfilata di moda Tipo Gigi Adid Tipo Adid Brava, bravissima Stupenda Stupenda Ora tipo accarezzati un po' la schiena Ok, perfetto Ora, fermati, fermati Fai un plie, tipo danza classica Un plie No, no, no Plie Dicendo la danza mi renderà migliore Perfetto, grazie Sei stata stupenda Era uno spot, appunto Per i culi piatti Sì Comunque sei stata stupenda Ok, e che cosa? È uno spot che fa vedere tutti i culi piatti Ok La danza rende il culo un po' più rotondo Eri perfetta comunque Sì, sì Il culo piatto ideale Grazie, ciao Allora, solo le cano gelato per finta Ok, grazie Siete perfetto Ok Con tanta sensualità Così è perfetto Ciao Ciao Ascolta, sto facendo un video Sui ragazzi molto belli fisicamente Con un fisico molto atletico Puoi per caso partecipare? Grazie Ok, giri così Finché non te lo dico io Continua Continua Bravo Gira Oh, non so Siete perfetto Parfetto Trottinaggio Trottinaggio Eccate di tombare Ok 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 Dica che girare è la cosa più bella del mondo Quanto per capire a girare Bravo Continua, eh Continua No, no Tu continua a girare, eh Non c'è un po' il cadizzo Profè Prova a ricadere ancora Vasi Voi sentire Voi sentire Voi sentire Voi sentire Se ci arrivi Vasi Ok Adesso ti fermi Rifallo scatto E' perfetta Bravissime Continuate, eh Bravissime Ok Accarezza i capelli All'altra Accarezza le capelli Bravissima Dille sei l'unica per me Sei l'unica per me Ok Dillelo con un accento francese però Capace Sei l'unica per me Sei l'unica per me Perfetto Perfetto Continua a accarezzarla Continua Adesso datevi un piccolo bacio Come volete un bacio Ma no sulla bocca è meglio No Guarda Velocissima Velocissima Perfetto Bravissime Ok Immaginate che sia quasi una donna Sempre più brave le Atrix Hanno fatto tornare lo struzzo dell'Amazzonia Quindi si meritano un like Arriviamo a 100.000 per il prossimo episodio E scriveteci nei commenti Cosa devono fare Quale nostro video devono rifare Poi seguiteci su Instagram ragazzi Vi appaiono qua tutti i nostri tag Anche delle ragazze di Giulia e di Arianna E mi raccomando Mi raccomando seguitele E iscrivetevi al nostro canale Perché ogni settimana escono un sacco di video Lunedì agate Mercoledì la nostra candy Del venerdì Un video dei player Dei nuovi player Chissà Che video uscirà venerdì prossimo Ciao